I beni comuni sono delle risorse naturali, risorse naturali che sono finite ma non scarse in natura e queste risorse naturali possono essere riassunte in quattro parole. Acqua, aria, terra e fuoco. Fuoco vuol dire fuoco, energia. Queste quattro parole sono importanti perché riassumono tutte le risorse naturali come erano ai tempi in cui il filosofo Empedocle nel V secolo a.C. formulò questa frase ma lo sono ancora oggi dopo tanti secoli perché all'interno di queste risorse ci sono tutte le nuove risorse che noi stiamo usando. Queste risorse sono state nel corso del tempo totalmente, quasi totalmente privatizzate, rimesse sul mercato come se fossero qualsiasi altra merce senza nessuna considerazione del fatto che esse sono invece le risorse di sostegno della vita. Senza acqua, aria, terra ed energia la vita, non la nostra vita degli esseri umani, la vita in generale sulla terra finirebbe. E' per questo che queste quattro parole con tutte le loro articolazioni interne hanno questa importanza decisiva oggi. I beni comuni più importanti sono essenzialmente tutti all'interno di queste quattro categorie però per essere più specifici, allora il primo che si riferisce all'aria è ovviamente il cambiamento climatico perché se la temperatura supera un certo numero, la temperatura media nella quale la vita è possibile sono 15 gradi centigradi e noi sappiamo che se si continua con questo trend molto presto l'aumento sarà incompatibile con la nostra vita. Naturalmente noi sappiamo bene invece cosa sta succedendo, le trattative internazionali che non hanno mai risultati concreti eccetera. La seconda in ordine di importanza è l'acqua. Come tutti stanno dicendo, l'acqua sarà la causa principale delle guerre del XXI secolo perché noi siamo fatti all'80-85% di acqua e l'acqua invece è requisita a monte per le industrie, per le dighe, quindi per contare elettricità pulita dicono. E in ultimo anche dai paesi più forti che si comprano o prendono in affitto la terra fertile che è pochissima ormai. Quindi la sicurezza alimentare è il rischio e l'acqua è fondamentale in questo. Terza risorsa direi è la biodiversità perché la biodiversità è vita, senza biodiversità si muore, nel senso che l'uniformità non permette di sopravvivere in una crisi. Quindi la biodiversità è importantissima ed è legata alla terra e ai contadini perché i custodi della biodiversità sono coloro che sulla terra ci vivono e che la coltivano. E infine appunto la terra, ma come ti sarai accorto ho citato tutte e quattro le parole di Empedocle, però in una loro particolare eccezione. Il che fare rispetto a questo problema può articolarsi intorno a tre grandi questioni. La prima grande questione del che fare non è soltanto sapere che sono a rischio le risorse naturali, ma è conoscere la cultura dei beni comuni. Perché dietro questo modo diverso di gestire queste risorse rispetto al modo in cui sono oggi gestite esiste una cultura, un modo di vivere, un ordine sociale che privilegia la solidarietà e la cooperazione invece della concorrenza, che privilegia i consumi ragionevoli invece del consumismo di massa, che dice no allo spreco, si può andare avanti a lungo ma non è necessario. Allora la prima linea di azione è da parte di ciascun cittadino e dei gruppi di cittadini di cominciare a ragionare su quella che è la cultura dietro i beni comuni, queste risorse. Non prendere solamente la risorsa per sé, ma rimetterle dentro un quadro di riferimento che li permetta di capire meglio perché sono importanti. La seconda linea è la stessa cosa della prima con la differenza che invece la cultura storica riguarda proprio i modus operandi della natura. La natura opera in modo sistemico, è come il corpo umano, non è possibile pensare di risolvere i rifiuti qui senza avere risolto a monte tutto il problema che è la produzione delle merci, di scatolamento, il trasporto. Ora questa natura sistemica della natura, che corrisponde molto più alla biologia che alla fisica, è molto sconosciuta alle persone che sono abituate dal capitalismo, dalla cultura dominante, a pensare che si può tagliare, non so, si può tagliare le tonsille a un bambino e tutto sa va bene. Ma non è vero, può darsi, occorre un medico che sappia ricollegare le tonsille all'equilibrio di questo bambino, alla sua possibile vita futura. Le risorse sono la stessa cosa. Allora qui c'è una cultura ecosistemica del modo superandi della natura che noi non lo studiamo a scuola, che è contro il paradigma dominante ed è una grandissima questione di conoscenza che credo ci può arricchire tutti e lo possiamo fare ciascuno per conto nostro e poi tutti insieme. La terza linea di azione è il localismo, una parola non tanto facile, la territorialità. Cioè noi ci siamo resi conto ormai che di fronte alla globalizzazione di lor signori l'unica cosa che noi possiamo fare è opporsi verticalmente, rovesciare il paradigma. Se voi volete portare le decisioni sempre più lontano dalla popolazione, noi le vogliamo portare sempre più vicino alle persone. Perché lo vogliamo fare? Per una ragione di democrazia, perché le persone possono trovare la soluzione dei problemi solo laddove essi operano sul locale, ma anche perché il territorio è proprio il contrario della grande fabbrica, dell'omologazione, dell'operaio massa, è invece il recupero della diversità, della ricchezza delle persone. Le persone non possono essere un problema, sono una grande ricchezza, ma solo sul territorio queste persone possono esprimersi e contribuire a trasformare, a risolvere il problema delle risorse naturali a rischio, più a rischio e quindi della ragione per cui i beni comuni sono diventati così conosciuti, famosi. Il problema è che molto spesso le persone parlano di cose che non conoscono, ecco perché occorre entrare più dentro la loro conoscenza sia sul piano culturale che sul piano scientifico direi, ecosistemico, perché se le persone riescono a capire il perché di una politica allora la seguono, se non la capiscono non credo che potranno seguirla. Direi che questo mi sembra che si può fare sia come singoli cittadini che come gruppi di cittadini.